I news è presentato da Chebolletta che venivano successivamente abbattuti dal calciatore senza alcuna fatica Sdraiato sul freddo pavimento dei portici dei Gabuccini avvolto tra coperte e stracci ieri notte un senza tetto ha scelto di addormentarsi lì sotto forse per proteggersi dalle piogge e dalle temperature che in questi ultimi giorni scendono intorno ai 13 gradi un caso di povertà e disagio che fa riflettere anche perché non è l'unico in città Roberto Zaffini è stato sospeso per dieci mesi dalla Lega Nord per violazioni dello statuto a deciderlo il Comitato federale di Ciprina e Garanzia alla presenza tra gli altri di Roberto Maroni e Flavio Tosi Zaffini non avrebbe versato i contributi previsti per oltre 22.000 euro e leso l'immagine del partito con esternazioni fatte sia in consiglio regionale sia sulla stampa ha lasciato una sedia vuota di fianco a lui per il segretario Marchegiani che non ha accettato l'invito di bere un caffè in piazza se Marchegiani vuole candidarsi, ha detto Luca Stefanelli la prima firma sarà la mia ma le altre 119 le andrà a cercare in giro per la città come ho fatto io Si conclude domani con la notte nera la settimana africana regionale durante la quale alle 17 al Sant'Arcangelo con la consegna al comune di Lampedusa del premio O'L'Africa nel cuore si ricorderanno le centinaia di vittime della tragedia avvenuta ieri proprio a largo delle coste dell'isola negli anni è divenuta meta di approdo per profughi in cerca di speranza Per riflettere sulla tragedia di Lampedusa il capo dello Stato ha indetto il lutto nazionale e un minuto di silenzio in tutti gli istituti scolastici momento di ricordo che si è tenuto in tutte le scuole fanesi come l'istituto Adriano Livetti quando le 12 la campanella ha bloccato le lezioni e ha così invitato gli alunni al raccoglimento In news è stato presentato da Chebolletta